I medici di continuità assistenziale, ovvero le guardie mediche, stanno ricevendo in queste ore la costituzione immora da parte dell'ASREM e della struttura commissariale per la restituzione delle somme percepite negli ultimi dieci anni relative alla indennità pediatrica e alla indennità per atti vandalici. Oltre al recupero delle somme, ai medici è stata sospesa dal mese in corso l'erogazione delle due indennità. Le organizzazioni sindacali di categoria SNAMI e FIMG, oltre a persone singole non sindacalizzate, hanno dato mandato all'avvocato Massimo Romano per presentare ricorsi finalizzati a bloccare le decisioni dei vertici sanitari in attesa dell'esito delle indagini avviate dalla Corte dei Conti. Una doccia fredda che si abbatte sulla categoria dei medici di guardia medica in particolare, che sono peraltro quelli più esposti al contatto con l'utenza, peraltro garantendo un servizio in ognuno dei comuni della regione, che si sono visti recapitare questa lettera di costituzione immora con la quale sostanzialmente l'azienda sanitaria non soltanto dispone la sospensione dell'erogazione delle indennità per il futuro, già a partire da questo mese di maggio, ma si preannuncia addirittura l'azione di recupero per i dieci anni precedenti. Quindi una vicenda particolarmente onerosa e particolarmente impattante su un contesto sociale quale quello dei medici, che già è stato duramente ed è duramente provato da una serie di vicende, anche di cronaca che sono state riferite come il problema delle aggressioni o il problema di operare in un territorio che, come è noto quello molisano, è particolarmente impervio. Contro quest'azione della struttura commissariale dell'azienda sanitaria abbiamo predisposto una strategia difensiva nei confronti appunto dei medici, giudiziale e stragiudiziale. Che tipo di azione giudiziaria mettete in campo? Guardi, c'è un'indagine della Corte dei Conti sulla base di un'attività svolta dalla Guardia di Finanza. È persino plonastico precisare massimo rispetto nei confronti dell'attività dei magistrati contabili. Il punto è che i medici rivendicano il diritto di percepire queste indennità e quindi chiederemo attraverso una complessiva strategia tanto giudiziale quanto stragiudiziale che venga accertato il diritto dei medici a percepire e quindi a ritenere le suddette indennità in quanto sono state erogate sussistendo nei presupposti previsti appunto da un accordo collettivo, l'accordo decentrato del 2007 e chiedendo per l'appunto alle autorità amministrative preposte non soltanto di sospendere la sospensione dell'erogazione quindi di riattivare l'erogazione ma in particolare di fermarsi rispetto all'azione di recupero perché a nostro avviso non si ravvisano i presupposti e quindi ci auguriamo che ci sia una forma di dialettica con le amministrazioni preposte idonea a garantire certamente il pubblico erario ma anche la categoria dei medici che francamente come dire è già più volte stata penalizzata ingiustamente.